Il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta è intervenuto sulla sentenza del TAR di Catania che ha respinto il ricorso della ditta Ventura di Furnari. L'azienda era stata allontanata dal Consorzio Autostrade Siciliane dopo le dichiarazioni dello stesso Crocetta che nel dicembre scorso aveva affermato di trovare assurdo che l'impresa, già espulsa dall'Expo di Milano, gestisse da anni diversi appalti ed in particolare il servizio di vigilanza autostradale con un impegno di spesa di oltre un milione di euro al netto. Le dichiarazioni del governatore indussero il Consorzio Autostrade Siciliane a richiedere una nuova informativa antimafia alla prefettura di Messina. Crocetta ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per l'esito della sentenza del TAR di Catania ed ha inoltre affermato che adesso intenzione del governo regionale è quella di proseguire nell'operazione di risparmio. L'idea è quella di assicurare il servizio di vigilanza stradale affidandolo ai precari dai forestali della regione siciliana senza costi aggiuntivi. Il tutto con il preciso obiettivo di ridurre la spesa ed utilizzare in maniera razionale il personale a disposizione dell'ente. Il presidente della regione siciliana ha concluso rivolgendo un ringraziamento alla prefettura di Messina ed al TAR di Catania.